Ciao, sono Roberto e questo è Le mie scorie, rivoli narrativi. Ho aggiunto questa piccola descrizione al mio solito titolo perché ho preso una decisione, cosa che già in realtà avevo fatto tempo fa, però ora è ancora più forte. Ho deciso di dedicarmi, anima e corpo, alla scrittura e quindi alla narrativa in genere. Ecco perché rivoli narrativi. Le mie scorie nasceva come un blog di scrittura principalmente dove buttavo dentro a questo grande contenitore tutto quello che mi passava per la testa. Quindi qualsiasi cosa, le mie passioni, quello che mi interessava cercavo di buttarle dentro al canale. Infatti i primi video parlavano, diciamo, di ricerca spirituale e di cammino verso una crescita personale. Questo in realtà non si blocca, non si ferma, perché ho trovato la maniera per farlo con la narrativa. Da qualche tempo ho iniziato un corso di scrittura, un corso di scrittura creativa, di Marco Carrara, il Duca di Baionette, perché lo conosce su internet, diciamo, lo conosce con questo nome, il Duca di Baionette, che metterò qui sotto, diciamo, il link al suo corso base. È un corso base che spiega le basi della narrativa e le regole fondamentali per la scrittura, cosa che io non conoscevo assolutamente. Per me la scrittura era avere un'idea, un'idea originale, mettersi lì e scrivere. E quindi quello che usciva fuori per me era scrivere bene. Sono il classico tipo che alle elementari scriveva bene i temi. Quindi il mio tema veniva preso dalla maestra e veniva letto a tutta la classe. Intanto se sentite delle grida, degli strilli, sono i miei figli che stanno di là, va bene. E quindi la maestra prendeva il mio tema, lo leggeva ad alta voce, io mi vergognavo, perché comunque ero il più bravo della classe, e quindi doveva leggere questo tema. E quindi sono cresciuto con questa convinzione che io ero bravo a scrivere. E quindi qualsiasi cosa buttavo giù, l'idea originale che magari c'era dietro, quindi un'idea un po' diversa dal solito, risultava qualcosa di eclatante. Ebbene, ho scoperto che non è così. La scrittura è tutt'altro. Non è solo avere un'idea originale, ma costruire un qualcosa, dare un senso a quello che uno scrive, poiché se tu scrivi è perché vuoi comunicare qualcosa agli altri. E questo comunicare qualcosa agli altri va fatto secondo certe regole. Queste regole le ho scoperte grazie al corso del Duca. Scusate l'interruzione, dicevo, l'ho scoperto grazie al corso del Duca. E per uno scrittore, se tu che mi stai guardando sei appunto uno scrittore, o anche un appassionato in realtà di serie tv, film, sceneggiature, videogiochi, fumetti, ti consiglio, ti consiglio di scaricarlo, è gratuito, non si paga nulla veramente, di modo che tu riesca a scoprire le basi della narrativa. Perché grazie a questo potrai analizzare, analizzare tutto quello che viaggia intorno a una sceneggiatura, a una scrittura di un libro, a un film, a qualsiasi cosa veramente. Cioè, questo ti renderà libero di capire i meccanismi che ci sono dietro la scrittura e anche la stesura di una sceneggiatura appunto. Diciamo che questo incontro io penso che le cose non succedano mai a caso. Mai a caso. Succede perché ovviamente tu le vai a ricercare. Sei tu che attivamente ti cerchi quella cosa e inevitabilmente la incontri. Ti scontri con quella cosa, poi sta a te decidere se affidarti a quella cosa o meno. E dopo che appunto io mi sono avvicinato soprattutto all'area spirituale di certi pensieri, adesso sto cercando di andare verso una una strada più razionale che però mi fa vedere quelle cose spirituali in maniera sempre esterna. Perché il pericolo di affidarsi alle cose, qualsiasi esse sia, quindi in maniera sia razionale che non, è quello di ancorarsi a una visione che ti fa perdere poi il contorno. Quindi il segreto se c'è è sempre quello di guardare in maniera esterna, essere testimoni, quindi appunto se parliamo di spiritualità, quindi di meditazione, la meditazione orientale insegna proprio questo, il fatto di estranearti dal tuo corpo per osservarti dall'esterno. E quindi questa cosa è una cosa che va fatta sempre, sempre. Va sempre resa possibile, sia in maniera razionale che non, l'osservarsi da lontano per cercare di non cadere nella tentazione di aderire a un pensiero che non è il tuo. Quindi sia alla ricerca, sia al scoprire diversi modi di pensare, ma bisogna sempre poi fare un passo indietro per cercare di evitare di cadere in quella bolla. Nei social esistono le eco-chamber. Abbiamo fatto anche un podcast con il mio amico Gianmarco che magari vi linko sempre qui sotto dove parlavamo proprio di questo, cioè del fatto che comunque quando uno è sui social si perde intorno a queste bolle, rimane incastrato in questa bolla e vede solamente ciò che in realtà pensa sia vero, ma in realtà fuori c'è tutto un altro mondo, quindi bisogna sempre essere esterni e esterni da se stessi, non è semplice. E appunto questo corso mi ha dato questo stacco necessario da quel tipo di visione in quel momento, ma adesso vedo quella visione in un modo che comunque aderisce anche a quello che pensavo prima, ma mi fa vedere tante altre cose. Quindi secondo me scienza e spiritualità dicono entrambi le stesse cose, ma lo dicono in maniera diversa. La scienza lo dice in maniera più razionale, quindi probabile. La spiritualità lo dice in un modo diverso, quindi che colpisce le emozioni, quindi tu ti fai prendere da quelle emozioni e il pericolo è che tu magari perdi di vista poi la razionalità. Dall'altro lato stessa cosa, se vedi le cose in maniera troppo razionali, lasci perdere l'emozionalità, quindi quello che appunto è l'emotività, non l'emozionalità, l'emotività dell'essere umano. Quindi secondo me c'è bisogno di tutte e due le cose. Quindi se ti va di seguirmi in questo percorso che ho iniziato un anno fa, un anno e mezzo fa, se non due, adesso non ricordo con esattezza, questo corso, diciamo, questa crescita evolve, evolve sempre di più e se da un lato della spiritualità ho trovato la meditazione come una via per fare questo, dall'altra sulla narrativa ho trovato sia il corso che ti dicevo poc'anzi che un libro che mi ha aperto veramente la vista. Sto parlando dell'arco di trasformazione del personaggio di Dara Marx, edito da Dino Audino Editore, se non erro, sì, dove praticamente Dara Marx non è nient'altro che una sceneggiatrice e consulente che nel suo libro praticamente indica agli sceneggiatori come progettare una sceneggiatura nel caso del libro parla di film, però questo è vero per tutto, quindi anche per i libri, dove praticamente indica come progettare una storia che implichi a quel personaggio una crescita personale, che è quello che in realtà viviamo tutti i giorni noi. Noi, sin da quando siamo piccoli, diciamo, quando prendiamo coscienza di quello che siamo, affrontiamo crisi, affrontiamo appunto cambiamenti, che però in questo libro, quindi leggendo questo libro, in realtà appunto parla proprio della vita di ognuno di noi, quindi come un personaggio possa crescere, ma come in realtà lo possiamo fare anche noi, e quindi ci sono degli step che ogni personaggio che ogni personaggio segue, e se lo rispecchiamo nella nostra vita è la stessa identica cosa. Se vediamo il disegno dell'arco di trasformazione non è nient'altro che una salita che appunto bisogna salire per andare incontro a questa crescita, per poi ridiscenderla e quindi cambiare in quello che noi siamo internamente, perché in realtà ciò che distingue l'eroe vero e proprio dall'essere appunto in una storia eroica o meno, quindi eroica o tragica, è proprio questo, il cambiamento interiore, intanto di là stanno facendo di tutto e di più, è proprio questo, cioè l'eroe non è chi compie gesta eroiche o uccide mostri o cose del genere, in realtà l'eroe è colui che cambia internamente, internamente tutti noi abbiamo appunto una visione del mondo, quando questa visione si scontra con la realtà ecco che nasce la crisi, dentro di noi c'è un difetto fatale, il difetto fatale è proprio quello che viene indicato nel libro e anche nel corso che ovviamente ho studiato, questo difetto fatale non è nient'altro che un modo di pensare che si scontra con la realtà, sta al personaggio, sta a noi capire se questo difetto fatale lo vogliamo superare o meno, quindi crescere oppure rimanere come siamo, il superamento di questo difetto significa appunto divenire eroi, crescere interiormente, superare quello scalino, quel muro, quella cosa che sta lì davanti e quindi quando vediamo un ostacolo, qualcosa che si far pone tra noi, non prenderlo come una maledizione, come qualcosa che è stato lanciato su dal cielo, ma prenderla come un'occasione, un'occasione per superarla e crescere, quindi trovo molte analogie nella mia vita su quello che mi è successo con quello che poi ho trovato e trovo tuttora sia nel lato spirituale che nel lato della narrativa. Si vanno a congiungere, le cose si uniscono sempre, nel libro di Dara Marx in realtà questo arco è un inizio, una fine, ma poi rinizio con qualcos'altro perché poi c'è sempre uno step successivo, c'è sempre un altro difetto che ci fa vedere il mondo in maniera diversa ed errata rispetto a quello che siamo noi. Quindi questo cerchio si trasforma in una spirale che è la spirale poi della vita, dell'esistenza. Quindi ho scritto un articolo anche sul blog, anzi ti consiglio di andarlo a leggere e di scriverti nella newsletter perché in futuro vorrò organizzare praticamente una newsletter dove parlerò ovviamente di queste cose, quindi soprattutto di narrativa, di scrittura e di crescita, crescita personale. E su queste newsletter infilerò dei bonus con appunto storie originali e notizie, curiosità, insomma. Quindi vorrei creare una community, un gente che mi vuole seguire per quello che faccio. Quindi innanzitutto ti ringrazio per aver visto il video, quindi iscriviti ai miei canali, iscriviti dappertutto, vai sul blog, segui il blog e gli obiettivi, gli obiettivi che mi prefiggo per il futuro è, a parte che sto scrivendo un romanzo e lo sto portando a termine, è appunto scrivere, essere scrittore, ma non per diventare famoso, per avere orde di fan che cioè grazie al corso io ho ritrovato veramente il piacere, il piacere di scrivere, di scrivere perché penso che la scrittura dal mio punto di vista deve essere appunto un comunicare, comunicare se stessi, quindi la propria crescita, la propria crescita personale agli altri. Quello che voglio fare è proprio questo, scrivere per donare agli altri una parte di me, una crescita personale che può essere rispecchiata nei personaggi che scrivo e che scriverò e che magari potranno appunto emozionare chi leggerà questi romanzi, chissà, vedremo. Intanto grazie per aver visto il video e ci vediamo alla prossima.